E' arrivato l'annuncio, è arrivato l'annuncio, è arrivato l'annuncio in ritardo Dovevi già annunciarlo ieri, che mi fai fare le figure con i followers Buonasera amici dello zoccolo duro, buonasera, buonasera, buonasera Sono con Dumbo stasera, che Dumbo, guarda Dumbo, d'altro parla, russo parla Solo che adesso non va, non so se funziona Comunque, è arrivato l'annuncio, è già a Milano, ante Rebic, non post, ante, quindi prima E' a Milano, ante Rebic, ho già visto le immagini all'hotel Me, della catena Melia, in piazza della Repubblica Ha già detto, forza Milan, forza Milan, ma che è, giargiana pure questo qua Siccome mi avete scritto, volevo fare il video domani Volevo fare il video domani Però siccome mi avete scritto in 16 mila, milioni, di migliaia di milioni Mi avete scritto, eh che dove sta accendendo? Privet, davai, grazie e vincita Privet, davai, davai Vabbè, assomiglia un po' ante Rebic Un po' c'è solo Privet Vabbè, questo lo mettiamo qua, Dumbo, Dumbo rosso Stavo dicendo, per quanto riguarda Rebic, parliamo un attimo seriamente Brindiamo a questo Rebic Siccome mi avete scritto com'è, com'è non è Allora, partiamo dalle cose positive Ovviamente mi vedete che non è che mi strappo i capelli dalla felicità Ovviamente Però, parliamo delle cose positive Prima cosa positiva Operazione magistrale Se veramente facciamo uno scambio di prestiti Andre Silva Rebic L'operazione è top Nel senso che noi gli diamo Andre Silva con diritto di riscatto Loro filano Rebic con diritto di riscatto L'operazione è top level Fatta un po' di ritardo però Una grandissima operazione E questo è anche uno dei motivi Per il quale ha giocato Andre Silva domenica E io ve l'ho detto Se voi andate ad ascoltare Quello che io vi ho detto Nel video Vi ho detto Guarda che Andre Silva magari gioca Perché c'è qualche possibilità di mercato E adesso si va a capire Perché ha giocato Andre Silva Evidentemente C'era in ballo Questo scambio con l'Inter Frankfurt Che ovviamente hanno Tutta la mia stima E il mio E il mio supporto Da quando hanno buttato fuori facilmente La coppia Mero L'Esposito Di Cantanapoli Quindi Operazione Top Rebic è un giocatore Che può fare Secondo me Sia la prima Che la seconda punta Infatti il mio Du È un buon giocatore Non è Ames Rodriguez Non è Everton Non è che arriva a Rebic E ci cambia la stagione Partiamo da questo Però è un buon giocatore Duttile Può fare diversi ruoli Proprio perché Può fare diversi ruoli E secondo me Prenderemo anche Un altro attaccante Si dice che il Milan Sia Su Tyson Non quello che si è fatto Mordere all'orecchio Da Olifit Anzi Quello che ha morso L'orecchio Da Olifit Il pugile Tyson Quello lì Dello Shakhtar Mi ha corretto Mia moglie Perché Shakhtar Si dice in russo Mentre in ucraino Si dice Shakhtar Non quello dello Shakhtar Cioè quello dello Shakhtar Che però lì è la stella Quindi non è che te lo danno così in prestito Che muoiono la grana Qui intanto vale magari un depol Sarebbe magari meglio Tra le altre cose Però è un'operazione separata Questo cosa vuol dire? Che sta arrivando Rebic Ormai è Milano Quindi Salvo casi eccezionali Strani Ha detto Tra l'altro dalla sua bocca Ha detto Fozza Milan Proprio Non so se era mezzo siciliano Fozza Milan Quindi immagino Che domani lo prendiamo Domani farà le visite E sarà ufficiale E ovviamente Jean Paul lo farà giocare Il mese prossimo Se tutto va bene Mannaggia Jean Paul Però c'è ancora in ballo La possibilità Di prendere anche Un altro giocatore Non è Un super bomber Quindi Ho paura che Che Jean Paul Perché non le dichiarazioni Che ha fatto Io ho paura Che quello voglia mettere Pachina Piontek Però questo qua Non è un bomber Quindi O lo fai giocare insieme O Puoi mettere anche Un tre dente Tra l'altro Con Rebic Piontek Che Suso Avrebbe già più senso Molto più senso Di Castiglieco Ma Non è che ci voleva tanto Ad avere più senso Di Castiglieco Però Un attacco Piontek Rebic Suso Che poi messi Perché Rebic E' uno che torna Un po' come Suso Quindi è un tre dente Mascherato Che tornano A centrocampo Ci metti Pacchietà Benassere Che ha fatto una grande stagione Che ha fatto una grande stagione Che ha fatto un grande esordio Teo Hernandez Che torna A fluidificare Sulla sinistra Lottiamo Per il quarto posto Possiamo farcela Non facciamo neanche Le coppe La nostra vera avversaria Come vi avevo già detto È la Lazio La Lazio ragazzi E' forte La Lazio è forte L'ho vista anche oggi A derby Si è pareggiato Ma E' forte la Lazio La Lazio E' molto più forte Mentre la Roma Arriverà dietro Ma Questo l'ho detto Dall'inizio La Roma arriverà dietro Perché ha un allenatore Non per qualcosa Perché c'è qualcosa Contro i romani Ma perché c'è un allenatore nuovo Di un altro campionato Straniero C'ha tantissimi giovani Secondo me Non si è rinforzata Anzi si è indebolita Rispetto agli anni scorsi Quindi Secondo me arriverà Settima Ottava la Roma Con tutto il bene Che gli voglio L'Atalanta L'abbiamo vista oggi Una squadra che Può inciampare In qualunque momento Andata a perdere In casa Che poi se non sbaglio Giocavano a Parma Non so neanche dove giocavano Col Torino Mi devo preoccupare Del Torino Non lo so Adesso sono in forma Perché hanno fatto Il precampionato Non faranno le coppe Però adesso Preoccuparmi del Torino Ragazzi Cioè Mi sembra un po' esagerato Quindi la nostra vera avversaria È la Lazio Lasciamo stare la coppia Il trio di testa Il trio di testa Che quello sarà Tra l'altro I futuri campioni d'Italia Hanno vinto anche stasera A Cagliari Devo dire che È un sensi superlativo Cioè stasera L'ho vista una partita Sì 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 Devastante A parte la rulletta Che ha fatto in aria Ma proprio anche tutta la partita Sta giocando bene Sta giocando proprio bene Da top Cioè quello che avrebbe dovuto Fare in teoria Barella Che è stato pagato 50 milioni E sta facendo niente totale Lo sta facendo sensi Sta rivelando veramente Un acquisto azzeccato Se penso Se penso che L'avremmo dovuto prendere noi Cioè tu pensa Se prendevamo Tra l'altro Prestito con diritto Come l'hanno preso loro Potevamo farlo anche noi Anche se Mi dicono Che è un diritto mascherato Perché dovrebbe esserci un getto In agreement Ma per come sta giocando Gli vale tutti Quei 27 milioni Se hanno pagato 45 Barella Ne vale 27 Ne vale molti di più Sensi Che ha fatto una gran partita Autorete di Cherry Comunque l'hanno portata a casa Ma loro fanno un altro campionato Non ci interessa Noi concentriamoci Sulla Lazio Perché è la squadra da battere Per noi La squadra da battere Sarà la Lazio Ma soprattutto Dobbiamo battere noi stessi Perché non abbiamo ancora un gioco L'arrivo di Rebic Ci darà un gioco? Non lo so Lo scopriremo Solo vivendo Nel senso Fra due settimane Quando giochiamo col Verona Adesso Jean Paul Cioè due settimane Per preparare la squadra Quindi non mi puoi dire Che c'è un giocatore Che non è pronto È pronto Non è pronto Tutti devono essere pronti L'acquisto di Rebic Però mi pone anche Una grossa domanda Leao Cosa l'abbiamo preso a fare? 30 milioni? No Fatemi capire Perché In Napoli A 40 milioni Ha preso Lozano Noi abbiamo speso 30 E l'abbiamo visto Lozano Noi abbiamo speso 30 milioni Per questo Leao Per tenerlo in panchina Quando gioca? Adesso è arrivato anche Rebic Quando gioca Leao? Non lo so Ma poi Soprattutto Jean Paul Farà giocare Rebic Piontek Suso Come ho detto io O devo vedermi ancora Castiglieco Perché se a Verona Avete ancora Castiglieco In campo Io impazzisco Quindi Speriamo Che tutto vada bene Speriamo di vincere Col Verona Ragazzi Col Verona Perché poi dopo Abbiamo il derby Spero di arrivare Al derby Per lo meno Per lo meno Con un'idea di squadra Un'idea Di come la squadra Dovrà affrontare L'anno Comunque per ora Fiducia a Jean Paul L'annuncio che doveva arrivare È arrivato Non potevamo sicuramente Rimanere come eravamo Non è il giocatore Che ci ha cambiato La stagione Rebic Però È un giocatore Che ci aiuterà Per lottare Al quarto posto Che lotteremo Con la Lazio L'anno scorso Lo davo per certo E siamo stati Sfortunatissimi Avete visto cosa è successo Atalanta Superlativa Un punto La traversa Gattuso Che ha perso Sette partite di file In casa Però Eravamo Tranquillamente Al quarto posto Quest'anno Perché poi Le mie previsioni Rimangono salvate Che ci sono i video Quest'anno siamo A 15 punti Dal trio Minimo 15-20 punti Però Lotteremo Con la Lazio Lotteremo Con la Lazio Ricordate Va bene ragazzi Vi farò il video Domani mattina Come sempre Ve l'ho fatto giusto a caldo Per dirvi la mia opinione Su Rebic Punto di domanda Più grande Cosa farà Leao Cosa l'abbiamo preso a fare E Se Jean Paul Lo farà giocare Con Pionte Che Suso Mi auguro Mi auguro Tra l'altro un bel torello Maseccio Quindi Ah Ultima cosa Quelli che mi dicono Le scorse stagioni In Italia Rebic Non aveva fatto benissimo La Fiorentina Di qua di là E' un altro giocatore Nel senso che E' sempre lui Ma è un giocatore maturato E' un giocatore Più completo Non è il giocatore Che ha giocato anni fa E' tutto un altro giocatore Tra l'altro Finalista mondiale Titolare Titolare Ha giocato Ha giocato Praticamente lui Il mondiale Perché Caglini Ce l'ha mandato a casa Subito E quindi Giocava quasi sempre lui Insieme a Peres Insieme Agli altri Va bene ragazzi Ben saluti Ci vediamo domani Mettete un like Come sempre Indominate a cosa Vi dovete iscrivere Allo zoccolo duro Di Dumbo Ciao 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 Ciao